presentiamo la prima serie dei cento rana assolute alla uno Federico Almini all'ultima bracciata proprio all'ultimo respiro come è dato questo cento rana? Beh è stato abbastanza faticoso soprattutto all'ultimo venticinque volevo cercare di recuperare le altre e ci sono riuscita però l'unica cosa è che non sono riuscita a migliorarmi ma mi va bene così comunque. Quindi intanto è protocasso alla vittoria per il tempo magari la prossima volta riuscirei a fare meno. Altri impegni oggi? Oh i cinquanta rana pomeriggio. vediamo di vederci più tardi ok? Ciao ciao Claudia Porta uno sedici e quattordici per la vittoria di serie due ci siamo al via la prima serie. Grazie a tutti. Grazie.